Musica Noi oggi siamo qui insieme a tutti i presidenti delle province, insieme al nostro Parlamento degli studenti perché vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro. La Toscana vuole esserci di più in Europa, lo vuole fare tutti insieme. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a Bruxelles per prendere parte alla 155esima sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni. Mazzeo è anche impegnato in una serie di incontri istituzionali focalizzati sui temi di salute, ambiente, cooperazione territoriale e politiche europee. Tra le sfide che abbiamo avanti dice un grande piano contro il dissesto idrogeologico. In Europa passa le possibilità di crescita della nostra regione, i fondi strutturali, il piano nazionale di ripresa e resilienza, la necessità di fare progetti che non diano solo risposte nel breve ma guardino al futuro. E questa è la sfida che noi abbiamo davanti. Come sapete qualche giorno fa l'Emilia Romagna, la Toscana sono state toccate, soprattutto l'Emilia Romagna ma anche il Mugello, la parte alta della Toscana, da questa violenza inaudita, una violenza inaudita che è frutto dei cambiamenti climatici. Allora siamo qui anche per continuare le iniziative che portiamo avanti perché la nostra regione sia una delle regioni più avanzate da questo punto di vista. Certo, ora siamo nell'emergenza e speriamo ci possano essere le condizioni perché la parte del piano nazionale di ripresa e resilienza che non viene utilizzata perché i progetti non possono essere dedicati, possono essere realizzati, possano essere messi a disposizione per un grande piano contro il dissesto idrogeologico. Questa è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme. In visita presso le istituzioni europee anche l'Unione delle Provincie della Toscana è una delegazione del Parlamento degli Studenti della Toscana. La Presidente, Maria Vittoria D'Annunzio, spiega il motivo della visita a fare ponte tra i giovani e le istituzioni europee. Fare da ponte e fare da coesione fra quelle che sono le tematiche affrontate ogni giorno con duro lavoro nella comunità europea per portarle ai nostri ragazzi in Toscana e quindi di conseguenza proprio di fungere da collegamento fra queste due realtà che alla fine sono in realtà molto strette fra loro. Per quanto riguarda questi giorni che passeremo a Bruxelles, non solo oggi ci stiamo occupando di questa grande descrizione di quelli che saranno i prossimi lavori della comunità, ma soprattutto nei prossimi giorni visiteremo il Parlamento stesso e anche il Parlamentarium. Investire in cultura, investire in lettura vuol dire investire in libertà. Siamo venuti al Salone del Libro per presentare la nostra proposta di legge sulla promozione alla lettura. Chiediamo al Parlamento che approvi la nostra legge per consentire alle bambine e bambini, alle ragazze e ragazzi di poter avere uno spazio durante la loro giornata di studio in aula per poter scegliere un libro e leggere. Penso che tutto questo renda le persone più libere, più pronte a vivere il mondo. E noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo messo gli avanzi derivanti dalla riduzione dei costi della politica a disposizione dei comuni per sostenere iniziative rivolte alla lettura. L'editoria italiana in questi giorni è a Torino per il Salone del Libro, dove non manca lo stand della regione toscana che oltre a promuovere iniziative legate alle varie pubblicazioni ha scelto il lingotto per presentare la proposta di legge sulla lettura libera rivolta al Parlamento dopo un voto unanime in Consiglio regionale. Abbiamo promosso una legge sulla lettura libera nelle scuole, l'abbiamo promossa e incardinata presso il Parlamento, presso la Camera e speriamo adesso che i parlamentari facciano la loro parte. È una legge che vorrebbe introdurre ogni giorno nelle scuole, in tutte le scuole del paese, un tempo per la lettura libera perché i ragazzi collegano la lettura soltanto all'adempimento scolastico. Questo, come sappiamo, non sempre innesta un piacere e fa crescere una passione. Vogliamo che la lettura abbia uno spazio tutto suo in cui loro possano recuperare un rapporto più piacevole, più di svago con la lettura e che li possa davvero appassionare poi da grandi e possa recuperare tanti adulti. Ha un passatempo bello, appassionante, ma anche utile per costruire una cittadinanza sempre più consapevole. È una legge di cittadinanza. È con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. L'Europa come opportunità. 80 studenti dell'Istituto Superiore Benedetto Varchi di Montevarchi, in provincia di Arezzo, vincitori di un progetto nell'ambito del bando Erasmus Plus, incontrano la Commissione Europa del Consiglio regionale. Otto classi terze si sono infatti aggiudicate, un finanziamento da 30.000 euro offerto dalle azioni Jamonnet per stimolare l'insegnamento e la ricerca sull'Unione Europea. La prima fase i ragazzi si sono focalizzati su che cosa l'Europa propone ai giovani, quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. E l'ultimo anno, quando i ragazzi ormai sono più grandi, ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa. Sono consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti, ma ci sono anche doveri. All'incontro, assieme al Presidente della Commissione Europa, Francesco Gazzetti, i consiglieri Anna Paris, Gabriele Veneri, Fausto Merlotti, Massimiliano Pescini, Vincenzo Ceccarelli e la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi. Questa è la generazione dell'Erasmus, la generazione dei ragazzi che hanno bisogno di dimensioni amplie, quindi sentirsi europei, ricercare un rapporto per capire quali sono le opportunità che l'Europa offre, ma anche come si può essere dei giovani cittadini europei del futuro, credo che sia molto importante, sia molto in linea con il lavoro che sta facendo la Commissione Europa che abbiamo fortemente voluto nell'ambito di questa legislatura. È importante che i ragazzi si avvicinano alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della regione toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene, in questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede e quelli che sono i meccanismi. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione. Il granaio lorenese, la selleria, l'allevamento di vacche maremmane e la villa granducale sono le tappe della visita che la Commissione regionale sviluppo economico e rurale ha effettuato alla sede di ente terre regionali in località Spergolaia, d'Alberese, in provincia di Grosseto. A guidare i consiglieri regionali il direttore dell'ente Giovanni Sordi. Noi siamo orgogliosi di lavorare per questo ente, siamo orgogliosi di Alberese perché rappresenta la storia dell'agricoltura italiana addirittura se non anche di più. Stiamo gestendo l'azienda in maniera molto omogenea e soprattutto stiamo conservando e innovando insieme quindi la tradizione della vacca maremmana, del buttero, insieme alla grande storia di questo posto che è splendido. Sentiamo la responsabilità del mantenimento di questo territorio, aggiunto la responsabile tecnica Donatella Ciofani. È un piacere per noi mostrare quanto lavoro c'è dietro alla tutela dell'agrobiodiversità, delle razze autoctone quanto patrimonio di conoscenze venga espresso anche dal lavoro dei butteri e anche raccontare queste razze, il loro grado di adattamento al territorio, le loro peculiarità la bellezza del cavallo maremmano, l'uso che se ne può fare, i possibili sviluppi di utilizzo e questo ci riempie d'orgoglio perché ci permette non di raccontarsela fra noi ma raccontarla a chi poi per noi deciderà le politiche dell'agricoltura toscana per il futuro. La tenuta di Alberese è una delle più grandi aziende biologiche d'Europa con i suoi 3.900 ettari. L'ente terre deriva dalla trasformazione dell'azienda regionale di Alberese e raggruppa le aziende agricole di proprietà della regione e altre funzioni tra le quali la banca della terra, i 100.000 orti, il coordinamento del sistema regionale di tutela dell'agrobiodiversità, un patrimonio che va ben oltre i confini regionali sottolinea la presidente Ilaria Bugetti. Ma credo sia un patrimonio di tutta la nazione, di tutta l'Italia e perché no anche di tutto il mondo perché i numeri dei turisti che arrivano da tutto il mondo lo dimostrano quindi per noi, per la regione toscana, per la commissione è stata sicuramente un'occasione per toccare con mano quello che viene realizzato faticosamente qui con le razze autoctene, quindi con il germoplasma, con tutto quello che viene prodotto quindi dalla parte al consumatore ma soprattutto con quello che è il mestiere faticoso tutti i giorni di mandare avanti un ente che ha mantenuto anche una sua storicità ha mantenuto una caratteristica molto semplice dove si può respirare davvero quello che è stato un tempo ma coniugato anche con le esigenze di oggi quindi un applauso a tutti coloro che ci lavorano, un ringraziamento per la commissione per la regione toscana è ovviamente una soddisfazione venire a vedere quello che cerchiamo di monitorare e di supportare ultimi giorni per la mostra fra memoria e destino di Lara Tunna nello spazio espositivo Carlo Azzeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso artista turca Lara Tunna vive in Italia dal 2007 a Pisa tracce della sua cultura si possono trovare in tutte le sue opere dove la contemporaneità è contaminata da elementi tradizionali le opere esposte sono proiezioni di storie vere e di persone reali nate attraverso gli occhi dell'artista ogni quadro ha una storia profonda di una persona dopo la mia prima mostra ho conosciuto tante gente nella mia prima mostra ho scoperto che posso fare un tipo di comunicazione con chi guarda al quadro perché loro hanno cominciato a raccontare le sue cose private e ho visto che mi raccontano le cose che ho sentito mentre facevo il quadro in questi dipinti commenta Giovanni Faccenda storico dell'arte si crea una complicità tra il vissuto dell'artista e le storie che si raccontano La straordinaria artista la ritengo veramente straordinaria da valutare in base a un lavoro molto complesso, molto complicato certo non per superficiale o indifferente un lavoro che risale a fonti culturali, a fonti filosofiche e a fonti anche esistenziali Il nostro spazio espositivo, commenta Antonio Mazzeo, si conferma vetrina per i talenti toscani Noi abbiamo la necessità, la capacità di far emergere quante energie positive ci siano nella nostra terra E' la voce praticamente di tanti fibromialgici, siamo circa 2 milioni e più e quindi avrei voluto urlare proprio un urlo diciamo di richiesta proprio per far riconoscere questa patologia che è appunto la fibromialgia che ancora oggi non è riconosciuta come ben sapete e non risulta né lea Avrei voluto urlare, non è solo il titolo del libro ma il grido di tanti pazienti che Pietrina Augianu ha voluto far sentire con tutta la forza possibile affidando il racconto di questa malattia invisibile alla protagonista Pitti Il romanzo, erito da edizioni del Faro, è stato presentato in consiglio regionale e parte dall'esperienza personale dell'autrice E quindi la malattia, quello che comporta essere malati da sindrome da dolore cronico diffuso quello che significa vivere con la fibromialgia una malattia appunto non riconosciuta che chiaramente ti porta anche ad avere un impatto molto forte a livello sociale perché spesso veniamo appunto emarginati, veniamo etichettati, non veniamo compresi questo sia nell'ambito lavorativo ma anche proprio nell'ambito sociale di tutti i giorni quindi nel quotidiano La Toscana si è mossa nei confronti di questa patologia ha ricordato il presidente della commissione sanità del consiglio regionale abbiamo riconosciuto un percorso diagnostico e terapeutico e stiamo cercando di implementarlo in tutte le aziende sanitarie Il punto è che si tratta di una malattia difficilmente diagnosticabile Prima soprattutto è difficilmente creduta perché è una forma che genera un dolore diffuso e ovviamente poi sul posto di lavoro, nei rapporti con i familiari spesso chi è affetto da questa patologia oltre a soffrire deve farsi carico anche del fatto di non essere assolutamente riconosciuto nella propria sofferenza Un tema molto importante che è quello della fibromialgia che come commissione regionale pari opportunità è sotto i nostri occhi come tanti altri argomenti perché purtroppo è una di quelle malattie che colpisce molto le donne e che fanno in modo che abbiano una vita ancora più difficile e difficoltosa soprattutto per quanto riguarda il lavoro La mia famiglia farà meglio di me La mia famiglia farà meglio di me La mia famiglia farà meglio di me